incredibile incredibile è finita è finita rigori chiedete scusa dal rosario centrale chiedete scusa chiudete scusa il numero 10 numero 1 al mondo chiedete scusa chiedete scusa ma che che vuoi come che voglio ricordate sono ser barzillotta io però secondo me rimango sempre del parere che il migliore al mondo sia cristiano ronaldo o se non che ne so un bapè per quello che ha fatto via ma vattene vattene e che cavolo via su finiamola qui rendiamo omaggio al numero 1 al mondo al numero 10 da 10 a 10 l'ultimo mondiale vinto con il pipe d'oro ma il grande maradona mai dimenticato a quest'oggi 2022 in catar l'altro numero 10 porta la vittoria quella coppa del mondo per la terza volta in mano della nazionale argentina dell'albi celeste dell'albi celeste una partita piena di emozioni per ad emozioni quando poi sembrava che la rimonta francese con sembrava effettuarsi concretizzarsi è andata un vantaggio l'argentina il cui va al merito di non essersi ma resa di essersi sempre rimessa anche arreggiata dal 2 a 1 2 a 2 trovando il 3 a 2 subendo il 3 pari e addirittura sferando in più occasioni così come la francia però avendo sempre il pallino del gioco cattiveria pressing raddoppi anzi marcature triplicate lot pedate quando c'era da darle e poi a sprazi quando prendeva palla messi illuminava sono stati azzeccati anche i cambi fatti in corsa da scaloni con la taro di bala a cugna pare adesso sono stati azzeccati hanno riuscito a ammortizzare bene le controoffensive francesi con il bar con questo chile a bapete autore di una tripletta al quale era pronto a farsi consegnare il titolo del nuovo re sole di francia del nuovo re di francia e invece non è stato poteva essere doppietta storica alzando questo trofeo per la francia però rendiamo onore io non minchino onore finalmente così finisce questa teritera chi più meglio chi migliore tra ronaldo cr7 e messi messi ha vinto pure la coppa del mondo si fermano a titoli continentali europeo ronaldo sudamericano coppa sudamericana messi ma messi a più palloni d'oro qualcuno regalato ma alla coppa del mondo dalla sua chiudiamo così si finisce questa tram tram chiedete scusa chiedete scusa ripeto partita partita storica questa è una partita che entrerà negli annali del calcio mondiale dei campionati del mondo dei campionati un po se devo dirla tutta se devo dirla tutta una partita l'argentina con la mossa di maria l'uomo delle finali ha dimostrato subito di tenere campo di avere corsa carattere cattiveria agonistica quella che serviva mettendo subito con un da zero secco lì la francia mettendoli a bada poi nel secondo tempo secondo me seppur giocando meglio la francia provava a fare qualcosa e complici e complici anche sono tutte le reti della francia complici anche sono state innescate da errori di valutazione difensive degli uomini argentini il quale sembrava che stessero per rivivere la la finale la parte la prima partita inaugurale contro l'arabia saudita ecco secondo me in qualche frangente è spuntato fuori erano dietro l'angolo i fantasmi arabi ma nulla è successo da dei rigori sono stati più concreti la francia ha pagato le imprecisioni da calci da calci dagli 11 metri qui finisce qui argentina penso meritatamente le ultime due partite la giocate veramente bene le altre non ha dimostrato mai un gioco ma compattezza e niente meritato meritato mondiale abbiamo il meritato numero uno al mondo finalmente per la gioia da danni al nano a vitto inchinatevi da rosario central alla vetta del mondo numero 10 via ronaldo terzo secondo mbappé che mbappé sarà l'erede sicuramente sarà l'erede e ma comunque vi dico anche un'altra cosa vi dico un'altra cosa che la francia non ha finito un ciclo non ha finito ci è andata vicina questa sera a continuarlo ma il ciclo continua perché guardate che il settore giovanile da dove attingono è importante l'abbiamo visto che hanno giovani di talento e forti quindi non è finito niente la francia le rivedremo all'europei sicuro e le rivedremo a prossimi mondiali statene certi per l'argentina forse sarà da aspettare il prossimo numero 10 tra 20 30 35 anni insomma per loro è il momento di goderselo che gli mancava dall 86 dal numero 10 al 10 da 10 al 10 la storia si riscrive nuovamente i cicli si ripetono ciao a tutti like e campanella attiva ciao